E oggi per la nostra rubrica delle parole desuete parleremo di una parola che viene dal tedesco. La parola è grifagno. Come si chiamano i rapaci in tedesco? Greifvogel. Oh, greifvogel. Forse ha qualcosa a che fare proprio con la parola di oggi. Però si può utilizzare anche in altri modi in tedesco. Prendere per esempio... Greifen. Oppure attaccare. Angreifen. Oh, angreifen. Lì è molto chiaro il modo di prendere e di afferrare degli uccelli rapaci. Grifagni. Come quello che ho oggi io sulla mia maglietta. Grifagno. La parola desueta di oggi.